Sindaco, nell'ambito del progetto Mercogliano Città Cardioprotetta stasera ci sono anche dei corsi per specializzare persone? Sì, stiamo proprio in questo momento effettuando questi corsi BLSD che consentiranno dall'amministrazione in primis poter utilizzare questi defibrillatori che sono stati collocati in vari punti della città per questo ringrazio la clinica Montevergine che ha collaborato a questo nostro progetto Mercogliano Cardioprotetta che dopo Montevergine Cardioprotetta dello scorso anno ha coperto l'intero territorio comunale di Mercogliano Un'iniziativa sociale di grande importanza? Di grandissima importanza, un'ora che sto seguendo questo corso abbiamo capito che sono importanti i primi sei minuti in caso di arresti cardiaci quindi avere un defibrillatore sulla zona sicuramente salverà al 90% la vita del malcapitato Assessore, lunedì sarà presentata l'iniziativa per intero al comune di Mercogliano? Parteciperanno anche i rappresentanti della clinica Montevergine? Assolutamente sì, lunedì 27 gennaio ci sarà la presentazione ufficiale del progetto presso la sala consigliare del comune ci saranno in rappresentanza il dottore Merlino che è l'amministratore delegato della clinica Montevergine ci sarà anche il dottore Cerullo che si occuperà di spiegare nel dettaglio quello che è il progetto e in che cosa consiste è chiaro che il progetto è un progetto importante, mira quella che è la prevenzione sul territorio a dare un servizio ai cittadini che possono in questo modo sentirsi chiaramente più sicuri nel momento in cui ci dovesse essere la necessità Grazie a tutti